Dovete ristrutturare la vostra casa? Affidatevi a RD3 Edilizia La Roche. Siamo specializzati in costruzioni, rinforzi, impianti, ristrutturazioni interne ed esterne, per consegnarvi, chiavi in mano, la casa nuova o rinnovata secondo le vostre esigenze. Utilizziamo metodi e tecniche all'avanguardia per garantirvi alta professionalità, competenza e qualità, in ogni fase di lavoro, dalla progettazione, alla scelta dei materiali, alle tecniche costruttive adottate, sino alla singola finitura, nel rispetto dei tempi, della sicurezza e dell'ambiente. Da oltre 40 anni opero in questo settore, amo il mio lavoro e lo trasferisco in tutto ciò che realizziamo.